Si amplia l'offerta formativa per gli studenti. L'amministrazione guidata dal sindaco Girolamo Auricchio del comune di Capaccio insieme con i sindaci del circondario ha chiesto alla regione attraverso la provincia l'istituzione al liceo scientifico dell'indirizzo sportivo. La richiesta nasce dalla volontà di offrire nuove opportunità agli studenti, afferma Auricchio, oltre che dalla considerazione che a Roccadaspide ci sono strutture sportive di tutto rispetto, quali il campo sportivo filo marino, in erba sintetica con annesso campetto polivalente e il nuovo palazzetto dello sport. Strutture che già rappresentano un punto di riferimento per i giovani della valle e del calore degli alburni e della zona dell'alento e che potrebbero garantire lo svolgimento delle attività previste nel piano di studio del liceo sportivo nella richiesta il comune gode dell'appoggio di Albanella. L'amministrazione del sindaco Renato Iosca infatti ha deliberato lo scioglimento dell'alberghiero dell'Ipsar di Capaccio e l'accorpamento con l'IS Parmenide di Roccadaspide. Questo consentirebbe anche di attivare il nuovo indirizzo per i servizi della ristorazione. La richiesta è stata avanzata, conclude Auricchio, dal momento che tra uno o due anni, considerato il calo delle nascite sul territorio rocchese e i comuni del comprensorio, l'IS Parmenide potrebbe risultare sottodimensionato. Il nostro comune, con circa 8.000 abitanti, rappresenta un importante polo di servizi e non può avere un'istituzione scolastica priva di dirigente e direttore dei servizi generali e amministrativi. L'eventuale accorpamento dell'alberghiero con l'IS di Roccadaspide non metterebbe a rischio, come qualcuno appaventato, il liceo di Capaccio di perdere la propria autonomia scolastica.